Giuseppe, cosa è successo questa mattina in questa sedecesima sagra del formaggio? cosa avete fatto? c'è la ricotta che abbiamo a fare, c'è la chiesa e c'è la ricotta e ne capisimo altre cose e le persone hanno risposto, gli è piaciuta? anzi quando portarono la pegnata con una via non è che mette le sella c'è la chiesa che volete quindi gli è piaciuta? si, si, se lo capisco non vuoi guardare che ha paura di queste cose se ci trova non aveva da mangiare però si, si, tutte cose, una via non è che mette le sella cosa la mettiamo in sacchetta, cosa la mettiamo sotto la ciglia e partiamo un po' il paese e quindi di pomeriggio farete di nuovo? no, no, di pomeriggio abbiamo... di pomeriggio abbiamo tante cose da fare